Will combatte la povertà educativa attraverso lo strumento dell'asset building. Certo famiglie attualmente stanno risparmiando piccole somme, a fronte delle quali noi quadruplichiamo le somme che loro mettono da parte e queste famiglie possono impiegare queste risorse per l'educazione dei propri figli. Un percorso che inizia in prima media e si conclude in prima liceo. Ottimo per contrastare la povertà educativa. Questo progetto per noi ha rappresentato una grandissima opportunità perché la mia figlia adesso può fare qualsiasi attività con il progetto, sia dall'inglese alla parte culturale che alla parte sportiva. Questo per noi come famiglia ci ha dato una gran serenità a livello economico perché è un progetto che dura per quattro anni. Quindi lei inizia e se le piace può finire anche a partecipare a questi progetti. Sono tutte le spese comprese, ci aiutano non soltanto a pagare il corso, sino alle divise o al bonus per l'autobus, o agli analisi del sangue. Tante cose che ci aiutano e noi siamo contenti veramente perché con questo Covid veramente non è facile e ci dà serenità con il tempo.